Nel Whatsapp di oggi proseguiamo nell'evidenziare le miserie della pubblica amministrazione. C'è tutto un disagio, un'agitazione che riguarda gli assetti e i dipendenti dei centri per l'impiego. Cosa sono i centri per l'impiego? Sono quelli che sono ricordati nell'immaginario popolare come gli uffici di collocamento, gli uffici di lavoro, dove si portava il tesserino, si timbrava ogni mese, si attestava allo stato di disoccupazione. Poi sul fine degli anni 90 una riforma che doveva rivoluzionare il sistema degli uffici di collocamento ha cambiato il nome a questi uffici. Una volta erano alle dipendenze del Ministero del Lavoro, sono finiti poi alle dipendenze delle province. Nella frenesia delle riforme che non riformano nulla in questo Paese a un certo punto si decide di abrogare le province per cui ricambia la legge e questi centri per l'impiego vengono praticamente tolti alla potestà delle province per finire sotto il controllo delle regioni. E tuttavia rispetto a questa riforma che non riforma nulla non si sono praticamente organizzati i passaggi di potere tra le province e la regione. Il risultato è che oggi questi centri per gli impieghi sostanzialmente vivono nel caos. Gli utenti che sono costretti ad andare lì per una serie di servizi, per la verità che a tutto servono tranne a trovare lavoro, perché erano stati concepiti i centri per l'impiego per combattere la disoccupazione, per dare opportunità al mondo dei disoccupati di trovare una occupazione. Non si sono organizzati per bene i passaggi amministrativi da un ente all'altro e quindi questi centri per l'impiego in questo momento in Calabria sono nel più completo caos. Addirittura i sindacati adesso dichiarano, stanno minacciando di fare dello sciopero. Insomma c'è bisogno di aprire l'ennesimo tavolo tra le pubbliche amministrazioni, tra le regioni, le parti sindacali, i rappresentanti sindacali di questi centri per vedere che fine fanno questi uffici, che fine fanno questi servizi e soprattutto come saranno organizzati, anche perché i cittadini che ci vanno vengono costretti a file interminabili, a disagi pazzeschi, a giornate intere per riuscire magari ad ottenere o per richiedere un semplice certificato. Il risultato di tutto è la solita commedia italiana legato alla organizzazione degli uffici pubblici e dello Stato. Chiaramente uno straniero che passa di qui sente questa storia che io sto raccontando oggi e chiaramente dice ma dove siamo finiti? In Italia, in Calabria in particolare, dove non c'è talk dove non si parla di riforme, non c'è convegno dove non si parla di riforme, non c'è momento in cui i ministri che si alternano al tesoro, alle finanze, al lavoro parlano dell'esigenza delle riforme, però queste riforme o si fanno e non producono nulla, o si fanno e sono sbagliate, o si fanno e continuano a rimanere tutto come prima. Grazie a tutti!